Che cosa fare quando siamo diventati consulenti do Terra a parte seconda? Lo so, starei per ore e ore a parlare di tutte le cose meravigliose che possiamo fare, che ci succedono quando diventiamo consulenti, ma vi voglio dare almeno le linee guida importanti per fare questo. Dunque, nel video precedente ho accennato le terminologie importanti da tenere presenti, e adesso passiamo ancora di più alla parte sul da farsi. Quindi innanzitutto stabilire un contatto quasi giornaliero sarebbe bene con il proprio consulente di riferimento, che posso essere io, ma possono essere altre persone della mia squadra se fate parte del mio team. Perché è molto bello essere formati, affiancati, questo è un lavoro di squadra, e si avanza soltanto se aiutiamo e veniamo aiutati a nostra volta. Quindi questo è molto importante. Anche perché poi l'imparare da chi ci ha introdotto ci consente poi a nostra volta di insegnare a chi introduciamo. Quindi è molto importante fare tante domande e informarsi tanto. Secondo consiglio, quotidianamente cerchiamo di passare una certa parte del nostro tempo a guardare video. Non solo miei, non sono niente di speciale. Se parlate bene inglese vi consiglio tantissimi canali ufficiali di doTERRA, ma anche non ufficiali, quindi persone, donne soprattutto, fantastiche, che condividono il loro percorso con doTERRA nei loro canali Facebook, Instagram, YouTube. Soprattutto mi piace molto. Ce ne sono tantissimi, quindi iscrivetemi in privato per averli. Uno che consiglio tantissimo è uno ufficiale di doTERRA per i consulenti che si chiama Share Success. Quindi andatevi a cercare sia il sito che il canale, perché danno a disposizione tantissimi video formativi, sia sui prodotti, sia su il training, sia sulle varie opportunità, eccetera. È in inglese, lo so, ci stiamo lavorando. Io cerco di fare il possibile a fare video per conto mio, però per chi lo sa è davvero molto utile. Oltre a questo c'è una sezione che vi linkerò nella descrizione di questo video, che si chiama Training Media doTERRA. Potete anche semplicemente scrivere su Google Training doTERRA ITA, perché fondamentalmente c'è una raccolta in questa pagina di tutte le risorse in PDF che doTERRA mette a disposizione. In particolare vi voglio consigliare di scaricare e, se possibile, stampare. Altrimenti potete anche comprarle per 1,50€ l'uno sul vostro profilo di doTERRA e vi arrivano ovviamente già tutte belline stampate e rilegate. La guida Live, Share, Launch e Build. E anche Natural Solution, che è uno puscolino. Tutti questi sono materiali formativi, informativi e formativi che doTERRA mette a disposizione e solo da pochi anni sono in italiano, quindi usiamoli. Per cui, appunto, primo passo, stabilire un contatto con il proprio consulente di riferimento, che può essere sia l'enroller che lo sponsor, quindi se sono due persone distinte chiedetelo, perché più persone avete in questo percorso che vi affiancano e più facile sarà per voi proseguire. Due, scaricare queste guide. Tre, appunto, l'ho già detto in altri video, stabilire proprio degli obiettivi. Quanto tempo voglio dedicare a settimana a doTERRA? A quali livelli voglio arrivare? Qual è il mio obiettivo? Forse per chi ha appena iniziato può essere un po' troppo della serie. Oddio, non lo so che cosa voglio. Allora fatevi questa domanda, magari. Voglio semplicemente dedicare un tempo relativo, perché semplicemente non mi interessa avanzare velocemente, voglio magari avere un piccolo surplus mensile, 200-250 euro fino a 600 euro, mi basta così, per pagarmi i prodotti, per pagarmi le bollette, cose del genere. Allora ditelo al vostro consulente, fategli capire quali sono i vostri obiettivi, quali sono le vostre necessità, lui saprà consigliarvi e assistervi meglio. In alternativa potete decidere di creare un vero e proprio stipendio parallelo a magari il vostro lavoro. Questo ovviamente, se lo volete ottenere in tempi, diciamo, minori, chiaramente richiede una quantità magari di ore settimanali un pochino maggiore, anche soltanto un impegno mentale, si parla magari di 8-10 ore a settimana, anziché magari 4-5 e ovviamente fatelo presente alla persona di riferimento. Chiaramente la cosa positiva è che può andar bene per qualsiasi... Quello che voglio dire è che non esiste una strategia migliore o peggiore, esiste la vostra, ovunque voi decidiate di essere, qualunque cosa decidiate di fare, siete nel posto giusto, nessuno vi obbliga a bruciare le tappe e fare super veloce, potete anche semplicemente affrontarla come un'esperienza per aumentare la vostra condivisione, il vostro... magari non è neanche un obiettivo economico il vostro, quindi va benissimo in ogni caso. C'è un ultimo livello, quello ovviamente se ci dedichiamo diverse ore settimanali, che... Dicevo c'è anche un terzo livello, che è quello proprio di sostituire magari il reddito, perché non siamo soddisfatti del nostro lavoro, perché ci siamo innamorati di questa opportunità, perché vogliamo davvero diventare imprenditori di noi stessi, lavorare senza confini, lavorare intorno al mondo, quindi viaggiare, avere tutto il tempo libero, non lavorare più magari nel nostro posto di lavoro e realizzare una rendita per sempre che può portarci a livelli davvero molto alti. Ovviamente questo può essere un obiettivo che si acquisisce anche nel tempo, però diciamo che se si ha le idee comunque chiare sin da subito, il destino anche si allinea per aiutarci a raggiungere il determinato obiettivo. Quindi spero che questi consigli vi possano essere stati di aiuto, sicuramente sono molto pratici per cui potete farli sin da subito e ovviamente sono pensati apposta per coinvolgere le persone già facenti parte della squadra e comunque aumentare la vostra conoscenza che può far bene anche soltanto per voi stessi. Ci vediamo al prossimo video e se avete delle domande, delle curiosità o volete condividere un vostro pensiero, scrivetelo pure nei commenti, lasciatemi un mi piace e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Ciao, a presto!